Ciao a tutti, oggi voglio parlare di questo libro, il mio ultimo romanzo, Cesare l'Immortale. Un libro che ruota intorno ai miei studi su questa figura, la figura molto particolare, molto conosciuta di Giulio Cesare. Bene, la domanda che mi sono sempre fatto è, perché un uomo così potente, così intelligente, così preparato, che conosceva tutto della Roma dell'epoca, che comandava come un dittatore assoluto, quindi con una rete di spie, una rete di conoscenze incredibilmente sviluppata, com'è possibile che un uomo di questo genere si sia fatto uccidere, come uno sciocco, viene da dire, durante la congiura delle Lidi di marzo del 44 a.C.? Una domanda a cui è difficilissimo rispondere. La storia ufficiale ci dice che non aveva più voglia di vivere, che aveva deciso di, anche se aveva intuito, aveva saputo, aveva capito che ci sarebbe stata una congiura nei suoi confronti, era disilluso dalla vita, era disilluso dalle schifezze che vedeva nella Roma dell'epoca, e quindi ha deciso di lasciarsi morire. Secondo me è una sciacchezza colossale. Com'è possibile che un uomo così decidi di lasciarsi morire, senza combattere, senza reagire? Lui che tra l'altro stava per partire, alla volta di una grande campagna militare contro i parti. Insomma, non mi pare che funzioni. Tra l'altro ci sono tutta una serie di cose che non sono chiare, storicamente parlando, che gli storici antichi riportano. Per esempio, pochi giorni prima di essere ucciso, Giulio Cesare rinuncia alla sua scorta personale di soldati germani. E non si sa perché. Perché ci ha rinunciato? Impossibile saperlo. Altra cosa. Molti hanno cercato di avvertirlo della congiura che stava per avvenire. Qualcuno gli ha addirittura messo in mano un bigliettino mentre si recava la curia. Ma lui l'ha ignorato. Forse non l'ha letto. Si dice non l'abbia letto. Perché? Non si sa. Arriva la cura e chi lo uccide? Lo uccidono e chi mette insieme questa congiura? Brutto e decimo brutto. Due delle persone che sono più vicine, che sono più care, a cui lui aveva già programmato degli incarchi di grandissimo prestigio. Perché lo fanno? Perché, si dice, ma erano delusi da Cesare, loro pensavano che dovesse anche lui credere nei valori della Repubblica. Insomma, le domande sono tantissime. Io alla fine, in questo piccolo libro, ho provato a dare una mia interpretazione, una mia risposta. Cioè, e se Cesare non fosse affatto morto durante la congiura delle edi di marzo, se avesse... beh, non lo dico, bisogna leggere il libro... Grazie a tutti.